Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del bonus luce e gas 2021, un argomento che abbiamo già trattato in diversi nostri video. Nelle ultime settimane sono stati molti gli utenti che nei commenti dei nostri video hanno chiesto quando sarà riconosciuto lo sconto in bolletta. Vediamo di fare il punto della situazione in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Oltre al bonus affitto è stato anche previsto un bonus luce e gas per aiutare ovviamente gli inquilini in difficoltà. Sono già moltissime le persone infatti che hanno presentato la domanda per ricevere lo sconto in bolletta. Per ricevere questo sconto però dovranno aspettare ancora diverso tempo in quanto lo sconto non è immediato per il semplice motivo che per verificare tutti i requisiti c'è bisogno di diverso tempo. In ogni caso tutti coloro che hanno presentato la domanda possono controllare lo stato della loro pratica direttamente su internet sul sito internet bonus energia anci con un accesso all'area riservata si può controllare la propria pratica inserendo il codice fiscale e tutte le credenziali di accesso ovvero la user id e la password che sono state rilasciate al momento della presentazione della domanda al comune o al CAF. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti